coronavirus due cinesi in isolamento su nave da crociera a civita vecchia primi esiti sarebbero negativi scontro sullo sbarco dei simila passeggeri siamo stanchi ma il sindaco dice no fino a risultati definitivi in cina oltre 8 mila contagiati la russia chiude le frontiere con il paese asiatico cresce il numero dei precari oltre 3 milioni dall'inps la fotografia sulle pensioni anticipate e corsa all'uscita dal lavoro mezzo milione in più di pensionati a napoli tensioni per l'avvertenza whirlpool la fabbrica chiuderà a fine ottobre operai in sciopero un italiano su sei è convinto che la shoah non sia mai esistita indagine shock dell'eurispes sull'antisemitismo per il ministro dell'interno lamorgese si tratta di rigurgiti preoccupanti la memoria è fondamentale stoppa modelli diversi per i caricabatterie dei telefonini il parlamento europeo approva una risoluzione per ridurre i rifiuti elettronici e semplificare così la vita le persone ma i grandi marchi della telefonia pronti a dare battaglia una sera il coronavirus dunque fa paura anche all'italia civita vecchia scontro sullo sbarco di 6 mila croceristi trattenuti su una nave dopo che due cinesi a bordo hanno mostrato sintomi sospetti che cosa sta accadendo lo chiediamo allora in diretta all'inviato lo vedete vito dettore allora vito ci si prepara una notte a bordo sì con ogni probabilità sì al momento lo sbarco non avverrà alle mie spalle vedete in fondo al porto quella è la nave da crociera la costa smeralda all'interno ci sono circa 7 mila persone tra passeggeri ed equipaggio sono 751 i cittadini cinesi dicevamo lo sbarco non avverrà cerchiamo di ricostruire brevemente la vicenda una donna di origine cinese presenta dei sintomi da sindrome influenzale e quindi immediatamente lo staff sanitario della costa smeralda ha fatto scartare il protocollo sanitario dunque questa donna cinese e il marito si trovano in questo momento in isolamento il marito non presenta alcun non presenta alcun sintomo secondo le prime analisi eseguite e sarebbe negativo alla le analisi proprio per valutare se la donna è affetta da coronavirus dunque le autorità sanitarie e portuali nel primo pomeriggio erano pronte a far sbarcare le mille 142 persone che sarebbero dovute scendere qui a città vecchia come programma della crociera però il sindaco di cività vecchia ha chiesto ha chiesto i risultati definitivi e non provvisori delle analisi e questo ha immediatamente bloccato tutte le persone non possono più scendere fino all'arrivo delle analisi definitivi noi l'abbiamo intervistato andiamo a sentire il sindaco di cività vecchia ernesto tedesco poi torniamo qui in diretta dal porto io ho inviato anche una comunicazione questa mattina mi è stato comunicato che era stato vietato lo sbarco e l'imbarco sulla sulla nave sulla nave oggetto di questa di questa vicenda per le motivazioni che conoscete perché evidentemente c'è la necessità di svolgere degli accertamenti sanitari su un passeggero in conseguenza di questo io ho preso atto della situazione come sindaco mi sono sentito in dovere di scrivere e di chiedere che in attesa delle risultanze che verranno verranno da lo spallanzani questo provvedimento in qualche modo venga mantenuto so che questa c'è una task force al ministero che si sta occupando di questa cosa anche il ministro mi ha dato rassicurazioni sul fatto che tutto seguirà una procedura che è volta a tutelare soprattutto non solo i passeggeri ma chiaramente tutti i miei concittadini dalle notizie che abbiamo dall'ospedale spallanzani di roma ecco i risultati dell'analisi arriveranno entro le 24 ore dunque con ogni probabilità ecco arriveranno nella giornata di domani dalle notizie invece che ci arrivano dalla nave da crociera costa smerata che lo ricordiamo si trova proprio lì in fondo al porto l'equipaggio avrebbe riconsegnato alle persone che erano pronte a scendere dalla nave alle 1142 persone che erano pronte a scendere dalla nave da crociera le chiavi delle cabine questo fa pensare dunque sarebbe la conferma del fatto che tutti i passeggeri in questo momento che si trovano nella nave trascorreranno la notte all'interno della nave da crociera dunque dunque lo sbarco avverrà se ci saranno buone notizie se tutto andrà bene avverrà nella giornata di domani è tutto dal porto di città vecchia ovviamente se abbiamo se avremo degli aggiornamenti vi chiederemo la linea nel corso del telegiornale grazie grazie a vito del torre continueremo a tenere naturalmente i riflettori puntati noi facciamo il punto allora sull'epidemia 170 i decessi registrati finora oltre 8 mila i contagiati l'avanzata a grandi falcate del coronavirus con marco burini aumentano i morti aumentano i contagi aumentano le richieste di mascherine anche se servono poco o nulla l'epidemia di coronavirus si espande in cina i morti toccano quota 170 di cui 38 nelle ultime 24 ore mentre i casi di contagio sono ormai più di 8 mila l'organizzazione mondiale della sanità si è riunita per decidere se è il momento di dichiarare l'emergenza globale che vorrebbe dire riconoscere che la situazione è più grave di quanto si è detto finora a wuhan città di 15 milioni di abitanti dove è scoppiato il contagio la gente cerca di continuare a vivere ci sono anche i primi pazienti che lasciano gli ospedali guariti ma i casi di contagio si moltiplicano come le misure di cautele e prevenzione la russia ha chiuso le frontiere con la cina e parliamo di 4250 chilometri anche l'india registra il primo caso ma ovviamente i paesi più colpiti sono quelli del sud est asiatico diverse compagnie aeree come british airlines lufthansa air france hanno sospeso i voli per la cina mentre il governo di pechino cerca di raffreddare la tensione intanto il consigliere economico della casa bianca lary kudlov ha annunciato che gli stati uniti invieranno i loro migliori esperti nella ricerca di una cura stamattina le borse asiatiche sono crollate taiwan ha perso il 5,75 per cento hong kong il 2 86 per cento e tokyo l'1,7 si svaluta la moneta cinese lo yuan che sale sopra quota 7 sul dollaro per quanto riguarda casa nostra un caso sospetto a roma con un turista cinese ricoverato mentre il ministro speranza dice che la situazione è seguita con la massima attenzione e che l'italia è in prima fila nella prevenzione mentre il ministero degli esteri raccomanda di evitare viaggi nella regione cinese di hubei ora l'economia è il record di precari in italia oltre 3 milioni di celi stat su dati del mese scorso in contemporanea dall'inps certificano e boom delle pensioni anticipate chi può lascia prima il mondo del lavoro seguiamo Luca Licata in calo il numero degli occupati soprattutto chi cerca un lavoro stabile a tracciare un dicembre nero per il mercato del lavoro i numeri diffusi oggi dall'istat che evidenziano come l'ultimo mese dell'anno in termini di occupazione sia stato caratterizzato da un andamento altalenante scende infatti a meno 75 mila unità il numero dei dipendenti a tempo indeterminato calano anche gli indipendenti ovvero imprenditori liberi professionisti e lavoratori autonomi meno 16 mila mentre si registra un aumento dei dipendenti a termine più 17 mila dato che segna un record in italia di contratti precari che superano così i 3 milioni rimane comunque invariato il tasso di disoccupazione fermo a 9,8 per cento stabile anche quella giovanile al 28,9 per cento nella fascia d'età tra i 15 e i 24 anni a venire fuori dunque la fotografia di un lavoro sempre più precario in cui calano le speranze di trovare un posto fisso mentre chi può va in pensione prima solo il 20 per cento dei dipendenti infatti sceglie di rimanere al lavoro fino a 67 anni l'80 per cento invece anticipa a render noti i dati sulle pensioni anticipate l'Inps un boom di richieste dovuto principalmente all'introduzione di quota 100 e sul fronte occupazionale tiene banco l'avvertenza Whirlpool in particolare con la chiusura dello stabilimento di Napoli gli operai proclamano uno sciopero di 16 ore insufficiente dicono la mediazione del governo che è riuscito soltanto a prorogare la chiusura in autunno Luigi Ferraiuolo Whirlpool Napoli chiuderà il prossimo 31 ottobre e operai e sindacati scendono sul piede di guerra si tratta di una doccia fredda per i 450 dipendenti a nulla è servita la mediazione del governo la situazione è tesa tanto che ieri sera dopo il tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico i sindacalisti Bentivogli, Re David e Palombella sono stati contestati a Roma dagli operai in attesa a Via Veneto oggi ci accorgiamo che il governo non solo non è stato garante ma non ha fatto nulla Mentre nello stabilimento napoletano si pensa a organizzare nuove forme di protesta FIOM, FIM e Wilm dichiarano 16 ore di sciopero per tutto il gruppo americano le altre 8 per uno sciopero nazionale Credo che la situazione sia delicata, sia difficile quindi bisogna mantenere i nervi saldi diciamo così, non farsi impressionare Riteniamo gravissima e inaccettabile la conferma di Whirlpool di voler chiudere lo stabilimento di Napoli il 31 ottobre prossimo, si legge in una nota congiunta dei sindacati In Vitalia si è messa alla ricerca per conto del governo di un nuovo soggetto che subentri alla multinazionale americana Il colosso staturitense delle lavatrici motiva la sua decisione con il fatto che lo stabilimento di Napoli perde 20 milioni di euro l'anno Annunciate oggi le materie della maturità ancora scritti misti per la seconda prova al classico greco-latino mentre lo scientifico matematica-fisica pubblicato nel pomeriggio sul sito del Ministero dell'Istruzione l'elenco completo delle discipline in base a tutti gli istituti scolastici mentre la ministra Azzolina ha deciso di chiudere con l'estrazione delle tre buste per la prova orale annunciato che il colloquio tornerà ad essere multidisciplinare cioè verterà su tutte le materie La politica è il giorno della verifica della fase 2 nel governo Conte-Bis l'esecutivo prova a ripartire dopo le elezioni segnate dalla batosta per i 5 Stelle fra le priorità da approvare entro l'anno dice il ministro dell'economia Roberto Gualtieri la riforma del sistema fiscale Augusto Cantelmi Dalla fase 1 alla fase 2 del governo giallorosso superato l'ostacolo del voto regionale non senza paure la maggioranza prova a rilanciare l'azione dell'esecutivo in un cronoprogramma articolato nelle ambizioni del Premier Conte Tantissimi noi per ogni settore di attività dalle infrastrutture alla università alla ricerca alla sicurezza abbiamo in campo fiscale abbiamo tantissimo da fare a Palazzo Chigi dunque nuovo vertice di maggioranza una verifica nel lessico della Prima Repubblica sul tavolo di Palazzo Chigi i tanti nodi ancora da sciogliere per il rilancio dell'azione dell'esecutivo dalla riforma della prescrizione alle concessioni autostradali dal taglio delle tasse alla modifica o cancellazione del decreto sicurezza fino alla riforma del fisco che per il Ministro dell'Economia Gualtieri si dovrebbe completare entro il 2020 anche nel centro-destra si fanno i conti post-elettorali nella Lega continuano ad arrivare smentite su tensioni interne e critiche a Salvini buon lavoro qualcuno ha messo in discussione? no proprio no qualcuno ha messo in discussione? qualcuno ha chiedicato? qualcuno ha chiedicato? no impossibile uno che sta al 30% più del 30% allora perché queste voci sono? ma le invidie le invidie purtroppo è una brutta bestia ci sono tanti invidiosi ma lui è il nostro leader e poi ha portato la Lega a risultati storici quindi insomma mettono in discussione è ingeneroso quanto meno ora all'estero con la Brexit dopo l'ok del Parlamento europeo anche il Consiglio europeo ha approvato oggi l'accordo di recesso che sancisce il divorzio fra Unione e Regno Unito l'accordo entrerà in vigore alla mezzanotte di domani 31 gennaio porterà l'uscita definitiva del Regno Unito a partire già dal prossimo primo febbraio cioè da sabato ci si prepara così a togliere le bandiere dell'Inghilterra dalle sedi istituzionali europee via anche i 73 deputati britannici dai seggi dell'Europarlamento vogliamo in Siria 10 persone uccise in un raid aereo delle ultime ore un ospedale da camp una panetteria agli obiettivi nel Milino nella regione di Idlib secondo l'osservatorio nazionale siriano il raid sarebbe stato sferrato dall'aviazione russa ma dal Cremlino arriva la smentita il Ministero della Difesa definisce la notizia una provocazione informativa negli ultimi due mesi è salito a 390 mila civili in gran parte donne e bambini il numero degli sfollati nella regione di Idlib e resta alta la tensione in Medio Oriente dopo il piano Trump che riconosce Gerusalemme capitale in divisa ma due stati per Israele e Palestina oggi il premier israeliano Netanyahu ha discusso del piano a Mosca con il leader russo Putin sentiamo la corrispondente Alessandra Buzzetti un incontro importante le relazioni con la Russia non sono state mai così buone è il commento con cui Benjamin Netanyahu lascia il Cremlino una delle ragioni della sua soddisfazione è il regalo di Putin che si porta sull'aereo Naama Isakara la giovane israeliana graziata stamattina dal presidente russo dallo scontare una condanna a 7 anni di carcere per 9 grammi di cannabis in valigia a suo rientro a casa il premier israeliano troverà una lettera di un altro presidente quello dell'autorità palestinese Abu Mazen secondo i media locali avrebbe messo nero su bianco la minaccia di non rispettare più gli accordi di Oslo incluse la collaborazione sulla sicurezza la ragione sta nel fatto che la roadmap tracciata 25 anni fa e riconosciuta dalla comunità internazionale è secondo i palestinesi superata in modo unilaterale dal piano di pace di Trump parole che l'anziano leader di Ramallah ripeterà probabilmente sabato nell'incontro con i rappresentanti della lega araba che arrivano al Cairo più divisi che mai con da un lato i paesi del Golfo e l'Egitto che per interessi diversi non si oppongono al piano americano e dall'altro i paesi nell'area di influenza iraniana che incitano i palestinesi a ribellarsi alla giudezzazione di Gerusalemme con ogni mezzo la prima verifica sarà domani giornata di protesta dalla città santa dove ieri ci sono stati arresti e scontri a Gaza dove nel pomeriggio l'aviazione israeliana ha colpito il nord della striscia in risposta al lancio di alcuni palloncini scendiari continuiamo a tenere in primo piano il tema della Shoah rapporto shock dell'Eurispes per il 15% degli italiani non è mai esistita dati allarmanti dice il Viminale e la ministra Lamorgese aggiunge la memoria è fondamentale in questo tempo segnato da preoccupanti rigurgiti Federico Plotti sono più che quintuplicati gli italiani che pensano che la Shoah non sia mai avvenuta e che i nazisti non abbiano studiato e portato avanti il loro diabolico progetto di sterminio degli ebrei secondo un rapporto dell'Eurispes ad oggi oltre il 15% degli italiani è negazionista percentuale che nel 2004 era del 2,7% risultano in aumento anche coloro che ridimensionano la portata dell'evento internet è il vettore principale di questo falso storico ma anche il veicolo di nuove pericolose derive antisemite odio e razzismo sentimenti sempre più diffusi come quelli che hanno spinto qualcuno pochi giorni fa prima a Mondovì e poi a Torino a scrivere frasi antisemite episodi isolati per la maggior parte degli italiani secondo l'Eurispes che non rappresentano un reale problema guai banalizzare ha detto oggi il ministro dell'interno Luciana Lamorgese intervenuta in un'iniziativa per il giorno della memoria organizzata dall'istituto scolastico comprensivo Largo Oriani di Roma quei segni quelle parole portate su alcune porte a Mondovì e non solo a Mondovì ci devono far ci devono allertare perché non possiamo far passare come uno dei tanti episodi di violenza no era presente anche Tatiana Bucci che ha raccontato la sua testimonianza da internata nel campo di concentramento di Auschwitz e sui temi sociali l'intervento del Papa stamattina la plenaria della dottrina della fede una società è civile ha detto Francesco se combatte la cultura dello scarto Paolo Fucili una società ammonisce Francesco può dirsi davvero civile se sviluppa anticorpi contro la cultura dello scarto se riconosce il valore intangibile della vita umana anche se fragile o precaria perché degna comunque della massima considerazione oggi invece sempre più spesso viene valutata in ragione della sua efficienza e utilità al punto di considerare vite scartate o vite indegne quelle che non rispondono a tale criterio udienza alla plenaria della congregazione per la dottrina della fede si parla di cura delle persone in fase critica o terminale della vita Francesco si appella agli inderogabili doveri di solidarietà e fraternità umana e cristiana compreso quello specifica di non abbandonare mai nessuno in presenza dei mali inguaribili senza compassione dice si guarda ma non si vede bisogna riscrivere la grammatica del prendersi cura del sofferente penso aggiunge a quanto bene fanno gli ospis per le cure palliative praticando la terapia della dignità altro tema infine la revisione delle norme sui cosiddetti delicta graviora riservati al giudizio della congregazione tra cui l'abuso sessuale di minori rigore e trasparenza invoca Francesco nel tutelare la dignità umana violata dei piccoli oggi il Parlamento europeo a maggioranza ha dato il via libera all'uso di un solo tipo di carica batteria per tutti i dispositivi mobili una risoluzione non vincolante alla quale molti grandi marchi di telefonini ovviamente si oppongono Silvio Vitelli cellulare che compri carica batterie che trovi se è vero che negli ultimi anni le scelte di molti produttori di telefonini sono confluite verso l'attacco chiamato micro USB ce ne sono altri che non l'hanno fatto uno su tutti il gigante Apple per non parlare dei modelli più recenti di altre aziende che propongono evoluzioni dell'attacco micro USB i quali per poter funzionare con i vecchi caricabatterie richiedono specifici adattatori un caos che incide sulle tasche dei consumatori e sull'ambiente nel mondo ogni anno vengono prodotti 50 milioni di tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche pari a 6 chili per ogni persona sembrano già tanti è vero eppure in Europa siamo capaci di fare peggio solo nel 2016 ne abbiamo prodotti 12 milioni di tonnellate pari a 16 chili per abitante per questo motivo il Parlamento europeo ha approvato oggi a larghissima maggioranza una risoluzione per chiedere l'introduzione obbligatoria di un caricabatteria comune a tutti i dispositivi mobili il Parlamento vuole che la Commissione presenti un provvedimento in materia entro il prossimo mese di luglio un quadro legislativo che per evitare di ostacolare l'innovazione tecnologica andrà comunque esaminato periodicamente tenendo conto dei progressi raggiunti nel settore Misery il celebre romanzo di Stephen King poi film di culto negli anni 90 ora è anche spettacolo teatrale grazie alla regia di Filippo Dini ce ne parla Michele Sciancalepore dopo la visione dello spettacolo Misery una sottile profonda inquietudine si insinua nell'animo non dovuta di per sé alla nota storia thriller venata di horror resa ancora più popolare dal film di culto del 1990 Misery non deve morire di Rob Reiner Misery non che non sia inquietante il plot da incubo con lo scrittore Paul Sheldon vittima di incidente stradale che viene salvato curato e sequestrato in una sperduta fattoria dalla sua ammiratrice numero uno Annie ex infermiera che ama letteralmente alla follia parimenti sia il creatore che la sua creatura Misery protagonista di best seller scollacciati che hanno dato fama e successo all'autore lei non può essere morta il tragico e angosciante sviluppo della trama è noto la fan Annie quando scopre che nell'ultimo romanzo Misery muore va su tutte le furie scatena la sua psicopatologia e obbliga a colpi di martellate alle caviglie lo scrittore all'immobilità il quale come un novello Sherazade deve scrivere per non morire e far rivivere l'eroina resta dunque schiavo del suo successo commerciale così come lo sarà della sua amorevole carceriera che nonostante da lui soppressa fisicamente continuerà a perseguitarlo in forma spettrale ma in questo adattamento teatrale il fantasma prende la forma di un quesito esistenziale e se anche dentro di noi ci fosse una Annie che ci rende schiavi della nostra vanità è su questo rovello che Filippo Dini imposta la sua regia a farsi carico del personaggio che nel film fu di Katie Bates una magnetica Arianna Scommegna che sin dalla prima apparizione non gioca tanto sull'ambiguità quanto piuttosto sulla bipolarità e riesce a creare una Annie indelebile e il nostro approfondimento questa sera dedicato all'addio al coro dei Crodaioli che riunisce le voci di montagna fondato da Bepi De Marzi autore della celebre Signore delle Cime la gente non sa più ascoltare denuncia il musicista e in chiesa funerali e matrimoni sembra di stare al mercato Marco Bergamaschi Il canto corale sono le voci che si tengono per mano è un grande affetto addirittura un grande amore Bepi De Marzi perché ha deciso di sciogliere i Crodaioli? Durante l'estate ho assistito a tanti concerti di grossi cori in tutte le parti anche all'estero e ho capito che non è più tempo per i cori numerosi bisogna costituire dei piccoli gruppi specialistici cantare magari anche microfonati ma ogni voce deve essere produttrice di se stessa e proporre anche un repertorio che sia del canto gregoriano per chi ci crede la polifonia classica il romanticismo e anche le nuove composizioni io non farò più il coro ma ci saranno i miei coristi responsabili molti sanno la musica che spero possano costituirsi in piccoli gruppi ed è quella la novità lei ha scritto brani che rimarranno nella storia quali sono state le sue fonti di ispirazione ho cominciato raccontando la mia valle che è una valle tra Vicenza e Verona poi ho cominciato raccontando la gente anche canti sacri perché io sono credente e ho sempre fatto l'organista di chiesa e poi ho raccontato il dolore della guerra ispirato anche da Bedeschi e da Rigoni Stern con le parole di un caro amico Carlo Geminiani abbiamo raccontato il dolore dei soldati poi ho cominciato a parlare a raccontare l'ambiente ha detto questo paese non canta più perché? la gente non canta perché non si ascolta la gente non canta perché non ha più la felicità del comunicare spensierato e penso che l'origine sia la fine delle osterie i trani a Milano io frequentavo i trani con mio nonno che era milanese i trani le osterie pensi che nei matrimoni una volta si cantava c'è ancora speranza che un coro torni ad avere un senso? sì ci sono anche degli ottimi compositori che però devono trovare il sorriso della poesia e la malinconia della poesia perché il canto è quasi sempre malinconia e devono trovare anche il piacere della melodia e la malinconia 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 e la malinconia